Probabilmente mi prenderai per pazzo e non ti posso assolutamente dare torto. In realtà è un quarto d'ora che rido, non riuscivo proprio a smettere, ma hai presente quando senti una notizia e la devi assolutamente raccontare a qualcuno. Ma purtroppo qui non c'è nessuno, solo che io per fortuna ho te e quindi te la racconto. In realtà si tratta di una notizia di addirittura cinque giorni fa che avrei potuto raccontare nel mio Tg, ma quando l'ho letta mi è sembrata una tale bufala che non gli ho dato il minimo peso perché era evidente che non ci fosse nessuna sostanza sul fondo, ma a quanto pare qualcun altro di peso gliene ha dato ed è qualcun altro che si trova anche nelle alte sfere e l'ha fatta diventare come si suol dire virale, tanto che ha fatto il giro del mondo e nemmeno in 80 giorni. Insomma è successo un putiferio, per fortuna assolutamente ingiustificato, ma faccio prima a raccontartelo. Allora, ti senti pronto? Iniziamo. Scusa la ridarola, ma sto realizzando questo video letteralmente in un ritaglio di tempo, quindi non ho modo di fare molto taglia e cuci, riuscirò a fare solamente le transizioni essenziali e lo registrerò in una sola botta, come va, va. Quindi probabilmente lo rifetterò tra due o tre giorni, mi vergognerò moltissimo e lo cancellerò dal canale, ma poco male. Andiamo a vedere che cosa è successo. È successo che il signor Fouad Dabiri, che è un ingegnere che lavora per Twitter, il 6 di maggio ha scritto questo. Ha scritto WhatsApp, ha usato il microfono in background mentre stavo dormendo e fino a quando mi sono svegliato alle 6 del mattino. E questa è solo una parte della timeline, cioè della registrazione dell'uso. Che cosa sta succedendo? E ci lega la sua timeline che ci dice che sostanzialmente il microfono di WhatsApp lo ha registrato mentre russava alle 4.20, alle 4.22, alle 4.37 e così via e addirittura alle 4.41, quando si è alzato per farsi un panino oppure per andare in bagno, questo non è chiaro, ha continuato a registrare tutto quello che avveniva in casa del signor Fouad che si è arrabbiato a tal punto da doverci fare un tweet sopra. E sarebbe finita lì, se il tweet non lo avesse visto qualcun altro. Peccato che chi ha visto il tweet del signor Fouad Dabiri fosse Elon Musk, datore di lavoro del signor Fouad, proprietario di Twitter è naturalmente acerrimo nemico di WhatsApp che ha rituitato il tweet del signor Dabiri aggiungendo una delle sue storiche frasi lapidarie ed ha scritto di WhatsApp non ci si può fidare. Ora è chiaro che Elon Musk abbia il dente avvelenato nei confronti del suo diretto concorrente Facebook, proprietario peraltro di WhatsApp e che sia naturalmente ipercritico e in certi casi abbia anche la tendenza a comportarsi come un bambino. Solo che ai bambini non puoi andargli tanto dietro, ma a quanto pare le più importanti testate giornalistiche non la pensano così. Red Hot Cyber titola WhatsApp spia i tuoi dati? L'ex ingegnere di Google lo rivela ed è bufera con Elon Musk. La Repubblica. WhatsApp accede di nascosto al microfono dello smartphone. Musk contro Zuckerberg. Non ci possiamo fidare. Il Corriere della Sera. WhatsApp l'accusa. Microfono acceso anche di notte. Musk all'attacco di Zuckerberg. Non ci possiamo fidare. Panpage. WhatsApp può ascoltarci mentre dormiamo? La Elon Musk lancia la sfida a Zuckerberg. E ancora Tech It. Una nuova scoperta suggerisce che WhatsApp ascolta le nostre conversazioni anche quando il telefono non viene utilizzato. E infine EveryEye.it scrive per Elon Musk non ci si può fidare di WhatsApp. I motivi dell'attacco. E te la faccio breve. Arriva a citare la teoria del complotto dell'estrema destra. Insomma hai presente quando da bambini giocavamo al telefono senza fili e tu dicevi svelto svelto una cosa nell'orecchio di un altro bambino, lui la diceva svelto svelto nell'orecchio di un altro bambino ancora e così via e tu avevi detto fischi e poi ti tornava fiaschi. Ed è normale. Il gioco è fatto proprio così. Ma vorrei capire dall'ingegner Dabiri se ha presente quanti telefoni cellulari ci siano nel mondo, quanti microfoni ci siano nei telefoni cellulari e quanta capacità elaborativa ci vorrebbe per ascoltare ed elaborare e capire 24 ore su 24 tutto quello che viene detto da ogni singolo telefono cellulare. Per fortuna in tutta questa bagarre è intervenuto un terzo giocatore esterno ma in realtà molto più interno di tutti gli altri a chiarire le cose. Dopo cinque giorni che è andata in giro per il web questa bufala il primo almeno in Italia ad accendere i neuroni è stato il giornale.it che questa mattina alle 9.55 ha titolato Whatsapp accede al microfono degli smartphone? Ecco cosa c'è di vero. E dice che effettivamente si tratta di un bug di Android e che Elon Musk ne ha approfittato per insinuare il dubbio. E questa cosa è stata chiarita direttamente da Google e Google è esattamente l'entità che ha creato Android. Infatti se andiamo su Wikipedia vediamo che Android è un sistema operativo per dispositivi mobili sviluppato da Google. Quindi ci sono voluti cinque giorni di bufale prima di arrivare a capire come ci chiarisce anche Masitinet.it che Whatsapp ha rilasciato una dichiarazione su Twitter suggerendo che si tratta di un problema legato ad Android e non di un accesso improprio al microfono da parte dell'app di messaggistica. In pratica un falso positivo. Ora se questa fosse stata una disputa tra bambini sarebbe finita lì e sarebbe finita da un pezzo. Ma purtroppo invece è una disputa tra informatici. E allora che cosa fa il nostro buon Elon Musk? Musk vuole sfidare Whatsapp. Presto chiamate audio e video su Twitter. Insomma il microfono adesso lo accende pure lui. E Whatsapp muta dirai tu? Ma invece no, te l'ho detto, si tratta di una sfida tra informatici. Infatti solamente poche ore dopo che Musk lancia la nuova funzione su Twitter, che cosa fa Whatsapp? Titola Whatsapp. Nessuno se lo aspettava. Da meta il rilascio di una nuova funzione assurda. Sarà un grandissimo cambiamento. Beh, vuoi sapere in anteprima in che cosa consiste questo grandissimo cambiamento epocale di Whatsapp? Consentirà agli utenti di modificare i messaggi inviati. Ma attenzione, solo se lo fanno entro 15 minuti dall'invio. Sono certo che se avessi fatto uscire questo video tra dieci giorni avremmo avuto dieci nuove modifiche su Twitter e altrettante su Whatsapp. Certo, la privacy è una cosa che va presa sul serio, non discuto, ma quando diventa oggetto di dispetti reciproci tra due colossi dell'informatica, e beh, spero che tu abbia capito i motivi della mia ilarità iniziale. In ogni caso, spero che tutto questo sia riuscito a chiarirci un pochino le idee che ti abbia magari anche strappato un sorriso. E con questo ho terminato e non mi resta come sempre che darti appuntamento. Alla prossima!